Ciao. Ciao, da quanto tempo? Che fai, non rispondi? Sei lì, immobile. De, perché non ti muovi? Perché non parli? Forse non mi vedi? Forse non mi senti? Quasi fossi in un'altra dimensione, quasi fossi invisibile, anzi, lo sono. Cerco i tuoi occhi distratti mentre perdo i miei, ed un filo s'avvipana. Vorrei tanto parlarti, ma perché? Vorrei tanto stringerti a me, ma perché? Non siamo forse ora due estranei? Il patriota condannato muore in terra straniera. Il mio cuore dal tuo esiliato ripara in altro seno. Ma fu vera patria? Tu non rispondi, continui a star lì quasi sospesa, e penso a noi mentre fisso un muro nero, e tutte le volte che stemmo insieme. Ogni giorno, ogni minuto, ogni attimo, io ti prendevo sapendo di perderti. Vorrei ancora amarti, per ore, ore e ore. Ma perché? All'improvviso, un suono, un bip bip. È la sveglia che allerta. Sono le sei e quaranta di un giorno qualunque. La vita quotidiana mi aspetta. Un sogno mi lascia.